eccoci qua sul monte perentile giro a 360 gradi la letta del monte perentile infatti come si vede siamo perfettamente sopra il monte dal gps perfetto eccolo qua allora laggiù è il circeo si vede anche l'isola di punza palmarola c'è la latina eccola qua tutta la pianura puntina e tutto il mare c'è la cresta della melazza del grugliano questo qui è la cima dei briganti se non sbaglio dovrebbe essere il paese di corga o galignano abbiamo questo noso o laggiù abbiamo tutti le pì così simile come c'è se le montagne di sora solo a frosinone gli aernici questa che tutta la cresta del lo strone maravoni sotto il paese di voli e carpiglietto romano siamo partiti l'articara questa qui sotto la valle del padre del pratiglio perfetto ok